Come si veste un Maranza? Un Maranza si veste TN Quindi tu sei un Maranza? Allora mi definisco Maranza io Cioè mi danno del Maranza però diciamo che è l'aspetto Cioè non è l'aspetto È il comportamento il vero Maranza Quindi TN? Tutta del pari oppure tutta in generale Ok Borsello, un Vuitton, un Patocco Facciamo sì 50€ Termica, occhialetto va a 5€ Tantico per andare a sciare questo Ovviamente anche l'orologio è immancabile Io non mi definisco Maranza Ok Ovviamente per il stile Chi rimarchia di più fra voi? Lo so dipende dall'ambiente però Io Indiesco te lo rimarchiate 5 Te 0 Vabbè raga rimarchio più io Basta